Allora, un pensierino per non trascurarvi i bambini in queste ultime serate, vi continuiamo a ringraziare, qui davvero serve dopo un gigantesco applauso perché siamo inondati dei vostri pensierini, sorrisi, barzellette, colmi, raccontini, la stagione è stata veramente tutta vostra. Poi migliaccio per domani sera, mi devi preparare quella bella lettera che mi hai fatto leggere oggi pomeriggio in camerino, addirittura il pacco sorriso fa scuola nelle scuole, ve diciamo domani sera, ma intanto questo pensierino intramuscolo c'è un disegno, un saluto a tutti i concorrenti, da parte di Giovanni, otto anni, che abita a Fiumata sul lago del Salto in provincia di Rieti. Flavio, dove abitava tua nonna? Eh, lì nonna sì, aveva un sacco di terra bella, va bene, poi è andata come è andata. Tutte le sere vedo la tua trasmissione perché mi piace molto, come mai la dottoressa non si vede mai, mai, mai? È troppo brutta? Ti sei fatta la domanda, datti la risposta. Ciao Giovanni, grazie. Questo è il disegno, guardi come mi fa bello smilzo. Magro con la poruna.